Salve, sono Lorenzo Sti giochi scusate, guarda che cosa Io sono all'oscuro di sti giochi Pronto? Uè Rocco Schizzo, come stai? Bene, dimmi Sono Lorenzo Loriginale, sentimi una cosa In pratica stamattina io ho parlato con Andrea dello streaming E abbiamo un problemino grosso 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 Che penso che comunque ti farà un pochino imbestialire Per questioni di manutenzione del server Non abbiamo lo streaming per due settimane No vabbè ma che c***o Non piangere Dico Ma per colpa sua? Per questioni di manutenzione del server Devono rinnovare Ma per colpa sua? Sì per colpa sua Ma abbiamo sistemato tutto e non mi ha detto nulla fino a che giorni fa Eh io l'ho sentito stamattina Però non penso sia una problematica grossa due settimane di No io per due settimane non faccio lo shout Perché io sono stati subito e non faccio lo shout Vabbè Rocco E io dico no no non lo faccio No vabbè a c***o non lo faccio Perché io non faccio il programma Perché io con i collaboratori mi sentono allo streaming Non faccio il programma Io ora chiamo Andrea E gli dico diciamo che devi rinnovare Ma non c'è bisogno Ti chiamerò in lacrima Non piangere Ma Ro parliamoci chiaro Cioè la fin fine è due settimane Senza disturbare il mondo Poi la fin fine lo shout chi lo sente Cioè se proprio vogliamo fare una storia la facciamo così Ma quando Ro? Ma quando? Ma l'ultima volta Non hai quella foto Se vuoi la mamma Ro ma che stai dicendo? Cioè lo sentiamo io Tu e Se vuoi ti manda la foto Va bene Se vuoi ti manda la foto Del contatore No no non ci prendiamo Cioè lo shout lo sentiamo io Tu e quelle quattro persone Che comunque ti seguono Però Va bene Va bene Io faccio come A me non mi interessa niente Io faccio come dico Ok? Ro Rocco ma Cioè non penso C'è un problema gravissimo Cioè stiamo parlando di due settimane Due settimane Per te non lo è Va bene Basta Per te non lo è Per me lo è Quindi io faccio come c***o Dico io Ro ma tu si Non mi interessa Sei troppo Non c'è bisogno Che la prendi così a male Cioè stiamo parlando di due settimane In cui magari Noi gioveremo di un servizio migliore Non c'è bisogno Non c'è bisogno di Ci sono già stato E devo dire che non si sta male Ma scusa una cosa E in questa maniera Non lavoro Ok? Ro Ma stiamo parlando di due settimane Cioè non è che stiamo perdendo milioni di ascolti Stiamo parlando della Non voglio più parlare Chiamo io Andrea E me la chiamo Io mi trovo un servizio per c***o Ciao Stiamo Rocco 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 Simpatico Sei sempre simpatico Ciao 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 Grazie a tutti